Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così è stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. E cosa? E noi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città vai là e questa è zona agricola e quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato ne può valere 60, 70 mila e pure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì? Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono.